Sono diventate definitive, con pene tra i 20 anni e i 18 mesi di reclusione, le condanne inflite nei confronti di otto affiliati e fiancheggiatori del clan Nuzzi di Altamura, tra i quali un ex carabiniere, con la decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso degli imputati. È definitiva dunque la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che nel novembre del 2019 aveva riconosciuto la responsabilità a vario titolo, contestate per i reati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, furti, armi e tre omicidi. Il procedimento Kairos riguarda fatti risalenti agli anni 2014-2016. I provvedimenti riguardano invece il capo clan Pietro Antonio Nuzzi e il fratello Angelo Antonio, condannati rispettivamente a 20 anni e a 16 anni e 8 mesi di reclusione. I pregiudicati Nicola Sorbo, 20 anni, Antonio Stella, 6 anni, Antonio Cardinale, 6 anni e 8 mesi, Dionisio Rotunno, anni e 4 mesi, con pena sospesa. Cesare Michele Oreste, 17 anni e 6 mesi, è l'appuntato scelto dei carabinieri Stefano De Santis, condannato a 18 mesi di reclusione. De Santis, all'epoca dei fatti in servizio presso il nucleo radiomobile della compagnia d'Altamura, era imputato per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio con l'aggravante mafiosa. Per aver fornito al clan, in cambio di denaro, informazioni su indagini e intercettazioni in corso, il processo ha accertato le responsabilità per il duplice omicidio di Rocco Lagonigro e Vincenzo Cicci Marra del marzo 2010 e l'omicidio di Domenico Fraccalvieri del giugno 2011.